Ciao, in questo nuovo video parliamo di cosa sono fatti gli impianti. In un video precedente abbiamo detto che gli impianti sono fatti di titanio, ma per l'esattezza sono fatti di titanio commercialmente puro di grado 4. Un materiale ampiamente studiato e utilizzato in medicina e che ha una caratteristica molto importante che è la biocompatibilità. Un materiale biocompatibile è un materiale in grado di essere accettato dal nostro corpo senza causare reazioni. Il titanio è un materiale biocompatibile e la sua biocompatibilità è dimostrata in medicina da tanto tempo. Per fare un esempio, in ortopedia una lega di titanio viene utilizzata nella chirurgia della protesi d'anca e quindi è chiaro che sia un materiale molto affidabile perché puoi immaginare quali gravi conseguenze potrebbe avere un fallimento in questo campo di applicazione. Il titanio ha altre caratteristiche importanti di cui ti voglio parlare, una di queste è la bassa conduttività termica. Cosa significa? Che non è in grado di trasmettere il caldo e il freddo, quindi se si mangia o si beve qualcosa di caldo o di freddo, l'impianto non trasmette questi sbalzi di temperatura all'osso o ai denti vicini, quindi non è in grado di causare sensibilità dentaria. Il titanio inoltre non ha comportamento ferromagnetico. Da lato pratico ciò significa che se devi andare in aeroporto potrai passare sotto il metal detector senza suonare, senza sembrare un dirottatore e se devi sottoporti a esami come la risonanza magnetica nucleare potrai farla tranquillamente, basta che tu avverta il radiologo di avere degli impianti in bocca, come peraltro dovresti avvertirlo nel caso avessi delle protesi rimovibili o dei ponti o come dicevamo prima la protesi d'anca per esempio. Bene, abbiamo visto quindi che gli impianti sono fatti di un materiale ben accettato dal corpo che non ti dà problemi se devi viaggiare, se devi sottoporti ad esami medici e con i quali puoi mangiare cibi caldi o freddi senza problemi. Grazie a tutti.